Trasparenza e partecipazione. Ancora senza risposta ad oggi la richiesta degli ambientalisti sul caso depuratori abruzzesi. Il 3 dicembre scorso, infatti, il Forum Abruzzese dei Movimenti per l'Acqua insieme alla Confcommercio ha inoltrato un accesso agli atti per ottenere i dati relativi alle quattro province, per sapere quanti e quali depuratori comunali avessero regolare autorizzazione allo scarico e se fossero state comminate le dovute sanzioni in riferimento all'anno 2015. A tale appello però è mancata la risposta di tre province. Sembra infatti che solo Teramo sia stata pronta a fornire i dati richiesti. Gli ambientalisti, a seguito di questa mancata risposta, tornano a puntare il dito sulle responsabilità verso i cittadini che non vengono informati sulle reali condizioni del loro territorio e l'invito, questa volta in forma pubblica, viene rilanciato al governatore della regione, Luciano D'Alfonso, e ai presidenti delle province di Chieti, Pescara e L'Aquila. Il quadro infatti vede in questo periodo una caccia senza quartiere ai famigerati scarichi abusivi, quelli scoperti di recente. Moltissimi depuratori inoltre non funzionano, proseguono gli ambientalisti e in altri casi, come quello del comune di Tocco, da Casauri ha per la totale assenza di impianti di depurazione, gli scarichi avvengono direttamente nel fiume. Nel caso di Pescara poi, per diretta ammissione del responsabile ACA, il depuratore sarebbe sottodimensionato, incapace dunque di ricevere l'intera quantità di liquami cittadini, motivo per cui una parte finisce direttamente nel fiume. Grazie. 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 Grazie.